Sì, contentissimo, soddisfazione personale, è stato un testa a testa con l'Eraglea, alla fine abbiamo meritato, abbiamo vinto e la vittoria la dedico a tutta la comunità di Grotta Minarda. La comunità di Grotta Minarda e i giocatori crottesi come Mustone, Flamia, Cataruuzzolo che hanno fatto la storia, grillo un po' anche del Grotta dei Miracoli in eccellenza, sono repartiti dalla prima categoria, perché? Soprattutto perché attualmente siamo l'unica realtà di Grotta Minarda e i ragazzi hanno un grosso senso di appartenenza. Presidente, Lions Grotta che continuerà il suo progetto ambizioso anche nel campione di promozione? Sì, sicuramente, abbiamo un progetto e dobbiamo cercare di vincere o quantomeno andare il più su possibile e tornare in eccellenza. Anche perché la comunità di Grotta vive di calcio sette giorni su sette, lei ne ha avuto la testimonianza anche con l'affetto il tanto seguito in prima categoria e adesso il Grotta e il Lions punterà a vincere anche il mini torneo? Sì, ci impegneremo al massimo, è stata una notizia di ieri e ci faremo trovare pronti anche per vincere questo mini torneo.